L'arbitro dà inizio al primo tempo Occhio al suo movimento Recupera un gran pallone Attenzione tutto solo Una grandissima parata questa Si aspetta il calcio d'angolo Corner battuto corto Il tocco dentro Sahin Gelli Diop Ci sono metri a disposizione Un altro pallone in mezzo Murato dall'intervento del difensore Sarà corner Cross verso il centro dell'area Nessuna attaccante è riuscita ad avvicinarsi su questo pallone Baragna vetri Sahin Chiude bene il triangolo Difende bene il pallone Ottima qui da giocata E c'è il tiro Non può sbagliare da lì Ci ha provato qui l'attaccante Ma tiro troppo debole Era nella posizione per concludere La rete Ma sprecato Malamente Prova col filtrante profondo Ecco il tiro Palla sulla traversa Palla sulla traversa Palla ancora in campo Sahin 1-0 Dunque Raccolgono i frutti Del proprio dominio Hanno sfruttato al meglio Il maggior possesso Palla Capitalizzando Una delle tante Occasioni create Rivediamo Lo sfortunato Autogol di prima Che ne pensi Stefano? Era nel posto Sbagliato Al momento sbagliato Non poteva certo Scomparire Ed ecco dunque Arrivato il primo gol Dell'incontro 1-0 Dos Santos Uicani Un tocco verticale Interessante Diop Sahin Occhio Cerca l'area di rigore Ultimo tocco Del difensore Si ripartirà Col corner Ci sono i fischi Dei tifosi di casa Per le continue Perdite Può colpire da lì Centra in pieno Il difensore Sahin Gelli Guarda il movimento In area Allen Cross in mezzo Palla recuperata dagli avversari Ha spazio Per avanzare Pallone troppo lungo E pallone recuperato Senza problema Occasione Pallone spazzato Via bene Dalla difesa Sbaglia lo stop E concede il possesso Agli avversari Può far male Dallee Strepitoso Qui il portiere Sulla conclusione A botta sicura Era gol Tier Non so come Abbia fatto a prenderla Occhio al pallone in mezzo Possono dunque ripartire La traiettoria verso il centro La traiettoria verso il centro Difesa un po' in difficoltà Qui Non riesce a spazzare Possono ripartire dopo il recupero Del pallone Palla allontanata Rimessa con le mani Da buona posizione Sain Occasione Palla controllata Dalla difesa Attenzione al pressing Diop Si avvicina all'area Ha intercettato bene il passaggio Non ci voleva molto Dos Santos Rosi Recupera la palla Intercettando bene il pallone Uicani Angheleri Toure Occhio al suo movimento Palla in mezzo Dopo un buon intervento Contrasto pulito Pallone in out Duello tutto di forza Ci sono metri a disposizione Da indietro al portiere Gelli Palla molto interessante Ci saranno tre minuti di recupero Sain Baragna vetri Puntuale qui il difensore Nel recupero Sain Ottimo intervento difensivo Chiquiudra Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, tutto solo. Non è finita. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Kramer, Dos Santos, Angeleri. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Palla vagata. Diop. Mascherani. Diop. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Per l'arbitro non è fallo questo? E dopo forse avremo modo di rivedere. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Rosi. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Buona la chiusura. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Diop. Andà indietro al compagno. Gelli. C'è spazio per andare. È tutto solo. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Difesa che fatica a spazzare via palla. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Passaggio che non era certo, tra i più precisi. Questo ha acevolato il suo intervento. Guadagna metri verso l'area. Mascherano. Palla girata sulla fascia. Occasione d'oro. Valla che finisce fuori. Punta l'area. Diop. È punizione. Posizione invitante. Questa è chizz. Si! No. Attenzione Ed è cazzo di rigore Ha rischiato l'intervento in scivolata Ed è andata male Qui il fallo c'è tutto Lo hanno visto tutti Troppo evidente Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto Operati, perfetto È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio Ci sono metri a disposizione Prova il numero Non va Allen Il pallone spazzato via bene dalla difesa Occhio al suo movimento Ci mette il fisico Non può sbagliare da lì Colpisce la traversa Non è finita Dos Santos Buon recupero del pallone Possono ripartire Prova a cambiare gioco Baragna metri Perde palla Gelli Prova a colpire Ha staccato più in alto di tutti su questo cross E l'ha messa alle spalle del portiere C'è tutto in questo colpo di testa Elevazione, potenza, precisione Nonostante il tuffo disperato del portiere Un grandissimo colpo di testa Il portiere è uscito dalla sua area L'attaccante l'ha affreddato veramente senza problemi Era posizionato bene Luigi E questo ha decisamente agevolato il punto dell'attaccante Pallone che finisce in fallo laterale Palla riconquistata dagli avversari Rimessa abbattuta proprio male Si avvicina all'area Attento qui il difensore che allontana Dos Santos Recupera palla Intercettando bene il pallone Palla vagante Può contare sulla Calcio di punizione Ha segnato all'armi Errore clamoroso Spazio per il cross Corner dunque Per l'ultimo tocco di un difensore Cross verso il centro dell'area Pallone assolutamente fuori portata Questo è il corner troppo lungo Ture Buono l'1-2 C'è spazio per andare Dos Santos Attenzione al tiro Grande parata Attenta qui la difesa Palla allontanata Barbosa Diop Diop Ancora 120 secondi alla fine Occhio cerca l'area di rigore Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero Rosi Guadagna metri verso l'area Palla in mezzo dopo un buon intervento E' finita L'arbitro L'arbitro Per l' Verizon È un minuto Pallone Occhio Presente E' finita Occhio Compa